di questa gara da 1,35 m, questo gran premio da 1,35 m è stata una gara molto molto bella ma il vincitore signori oggi è lui Paolo Garofalo a premiare Paolo Garofalo saranno il dottor Vincenzo Montrone, la dottoressa Grazia Salerno rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato campano e quindi lui è il vincitore la seconda posizione bellissima anche la sua gara, quella di Beatrice Marra giovanissima concorrente nonché allieva di Paolo e lasciatemelo dire noi siamo sempre per lo sport lo sport è bello, lo sport è pulito, vedere Paolo che provava a dare gli ultimi suggerimenti a Beatrice per provare a battere se stesso è veramente molto bello Paolo Garofalo ha ceduto il premio della prima posizione quindi all'allieva e ovviamente all'amazone Beatrice Marra, la terza posizione è quella di Sergio Santa Barbara la quarta posizione è quella di Pietro Pagliari, un binomio sempre positivo quello di Pietro Pagliari composta da Ruritan, questa cavalla del 2008 e quindi signori adesso davvero tutti insieme tutto il pubblico ad applaudire i protagonisti le mani signori le mani ad applaudire Paolo Garofalo Paolo Garofalo, Dalia della Verdina, l'esperienza di Paolo, un'eccellenza campana, lasciatemelo dire Paolo Garofalo signori Ed eccola la più giovane Beatrice Marra e poi Sergio Santa Barbara e Pietro Pagliari signori, grazie, grazie a tutti voi per questo bello spettacolo Grazie a tutti